Dai, non fare così, tra noi non cambierà niente, è giusto separarci a queste condizioni, non si può più andare avanti. Lo so però, con tutto quello che c'è stato tra noi, tutti i miei momenti passati insieme, tutto quello che abbiamo fatto. Strazia il cuore vedere queste scene quando l'amore finisce e poi si arriva dall'avvocato, brutto, l'importante è comunque che rimanga un rapporto civile, insomma almeno quello che sembra... Ah, ma che cosa ha capito? Ma perché ho frainteso? Certo che ha frainteso. Io ho capito, c'era la separazione di mezzo, allora... Ma noi siamo venute qua per sciogliere il nostro sadalizio artistico. È che ci costa troppo, mica perché lei abita in Italia, io mi sono trasferita in Francia, ci telefoniamo, si parla, si parla e... Eh, si spende, si spende. No, siccome che io devo presentare ancora scherzi a parte... Brava, lo sapete, vi verrete sempre. E qui avrei dei consigli interessanti da darvi per risolvere il vostro problemino se mi fate passare avanti. Ma, ma, ma prego! Dunque, semplicissimo, basta abbonarsi a Infostrada e scegliere l'opzione... Oh, eh, segua. L'opzione inoltre. Con questa opzione tutte le chiamate verso una nazione straniera scelte dal cliente vengono scontate del 15%. Oh, è incredibile, sì, ma chissà quanto ci costa il canone di questo inoltre. Niente, per servizi di Infostrada non si paga nessun canone, questo è chiaro, eh, ormai. Insomma, l'opzione inoltre è un'altra possibilità che Infostrada vi offre, anche voi a casa, lo dico anche ai nostri amici a casa in vita, anche voi, per personalizzare il vostro abbonamento telefonico adattandolo alle vostre esigenze o abitudini. Allora, ci devo dire come si fa ad abbonarsi? È semplice, è sufficiente, una chiamata all'155, lo saranno anche i bambini. Rispondono 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, seguite le dita, tutte e due, tutte e due le dita, eccola. Oh, oppure entrate in una tabaccheria ricevitoria dell'otto che espone questo marchio qua. Eh, ma mi faranno cambiare il numero di telefono, mi faranno cambiare il telefono, chissà cosa mi costa di canone, ah, sì, 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 è così. La terza puntata, assolutamente, no, non c'è il canone aggiuntivo, non si cambia telefono, né il numero telefonico, e l'abbonamento viene attivato, attenzione bene, entro il giorno successivo alla richiesta. Ma allora non ci stai, parliamo più, no, andiamo a telefonare in postrata, adesso non ci interessa più parlare con l'avvocato. Andate, andate, andate a telefonare in postrata che io vado con l'avvocato, parlo io con l'avvocato, ci parlo io. Ciao Marco. Avvocato carissimo. Hai bisogno di me? Sì, tanto bisogno di lei, io, io ho bisogno con tutti i sensi, capisci? In che senso? È con tutti i sensi, ho detto, quindi. E noi? E voi, e voi non dovete telefonare in postrata? Ah, già. Opzioni inoltre. Opzioni inoltre. E allora, intanto inoltratevi e andate, che io devo parlare con l'avvocato. Avvocato carissimo. Volevo dirle, vede, che... Grazie.